Musica Bentornati con le coincide previsioni a cura di Meteo One. Un centro di bassa pressione insiste sui settori meridionali. E il suo ramo più umido nelle prossime ore richiamerà precipitazioni diffuse sul centro-sud anche di forte intensità. Le temperature molto basse potrebbero favorire nevicate fino a bassa quota sulle aree adriatiche e tirreniche. Questo peggioramento di stampo invernale ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 16 gennaio. Giornata perturbata con possibilità di precipitazioni diffuse che potranno risultare anche di forte intensità sul Gargano e sul Salento. Sulle aree colpite dalle forti nevicate e precipitazioni dei giorni scossi, la quota neve potrebbe calare velocemente. Pertanto potranno verificarsi nevicate o pioggia mista a neve fin sui 400-500 metri sul Gargano, subappenino d'Ano, murge e zone interne e montane della Basilicata. Previste schiarite dal tarto pomeriggio a partire dalla Basilicata e dai settori più occidentali. Le temperature risulteranno stazionarie o in lieve flessione nei valori massimi. I venti soffieranno dai quadranti sud-orientali con rinforzi maggiori sul Salento e aree ioniche. Altrove risulteranno più deboli. I mari da Mosso a Molto Mosso lo Ionio, Mosso invece l'Adriatico. Vogliamo anche segnalarvi l'attenzione sulla prima mattina e la sera. Infatti possono esserci ancora possibili gelate, soprattutto nelle zone ancora innevate. Ma ora andiamo a vedere la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Trono Cosimo per questo fiabesco scatto dalle spiagge innevate di Porto Selvaggio in Salento. Sembra quasi di stare in un fiordo norvrigese. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre linee Facebook di MetiOne e Teleappula oppure alle email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.